L'impostazione che darei è diversa, che vorrei dare è diversa ed è un'impostazione che risale a quel libro pochi minuti fa ricordato da Fernando Orlandi del 2005 sul sogno del grande spazio. E in effetti la proposta analitica che io vorrei proporre è quella di focalizzare il cuore dell'ideologia del nazionalsocialismo non tanto sull'antisemitismo e sul conseguente tentativo di sterminio degli ebrei d'Europa, ma di focalizzarla su un altro punto di gravità, quello della conquista e della trasformazione, dell'acquisizione e della trasformazione di uno spazio vitale, di un Lebensraum per il popolo tedesco. In questo quadro, in questa centralità dell'Ebensraum, nella visione ideologica, in primo luogo di Hitler, si sottende anche l'antisemitismo come un elemento che non è fine a se stesso da un punto di vista ideologico, sebbene dentro al movimento nazionalsocialista ci fossero molti antisemiti, Hitler in prima persona, ci fossero molti antisemiti radicali, ma un mezzo per raggiungere uno scopo. E lo scopo sarebbe stato quello della conquista e della definizione e della trasformazione di uno spazio vitale nel quale collocare il popolo tedesco. Detto questo, non va dimenticato né sottovalutato che comunque la dittatura nazionalsocialista è stato un sistema poliedrico, policratico, molto fortemente sfaccettato, dove potevano coesistere figure come un Goering, che aveva molti amici ebrei, se non altro perché gli interessavano, interessava fare affari con loro, ad esempio nel campo dell'arte, con uno Streicher o un Goebbels che gli avrebbero voluti eliminare, sterminare tutti seduta stante, e così dicendo, potendo esemplificare in modo molto più ampio e articolato la presenza, la compresenza di molti punti di vista diversificati all'interno del movimento nazionalsocialista. Ne va dimenticato che se anche adesso io, nei prossimi minuti, parlerò di Hitler e farò alcune citazioni dal Mein Kampf di Hitler, ne va dimenticato che il regime nazionalsocialista agisce e interagisce dentro a una società tedesca, nella quale dal 1930 in poi, con i grandi successi elettorali, che sono una conseguenza diretta della crisi politica, economica e sociale della Repubblica di Weimar, conquista e consolida un forte consenso nell'opinione pubblica, che sul piano elettorale, come noto, non sarà mai maggioritario, all'elezione del marzo del 1933 il Partito Nazionalsocialista, benché elezioni fortemente truccate, non è arrivato al 43% dei voti, e questo consenso resterà saldo in ampi settori della popolazione tedesca, come è ben noto, fino agli mesi dell'inverno 44-45, inizi primavera 1945, quando tutto il sistema molto rapidamente iniziò a crollare, soprattutto sotto la pressione dell'armata rossa, che proveniva da Oriente. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica Mein Kampf, che è un'opera strana, difficile, molto difficile da leggere. Per fortuna oggi disponiamo di un'edizione critica italiana, e non della solita vecchia edizione realizzata ancora negli anni 30, a tardi anni 30, da Mondadori, un'edizione critica curata da Fernando Pinto per l'edizione Free Ebrei, Torino 2017, che consiglio a chi fosse interessato, perché è un primo serio tentativo per il pubblico italiano di fornire un'edizione critica del Mein Kampf. Nel Mein Kampf Hitler racconta molte cose, molte delle quali sono relativamente insignificanti, ma a parere mio e a parere di molti studiosi che in questi ultimi anni si sono concentrati su questa interpretazione, il cuore del Mein Kampf è la visione che Hitler ha di cosa significa governare un grande Stato. La sua interpretazione, il suo punto di partenza è che la storia è fatta di lotte, ovvero di guerre, tra popoli, barra stati, barra razze, tra popolo e razza, folk, undrasse, c'è nel lessico nazionalsocialista una larga sovrapposizione, se non addirittura una coincidenza, e questa lotta tra popoli, che è inevitabilmente una lotta che porta a galla il più forte e che distrugge il più debole, è una lotta per il territorio. Nel Mein Kampf Hitler scrive con molta chiarezza che le colonie, l'impero coloniale tedesco, che era stato strappato alla Germania dai vincitori a Versailles nel 1919, e che, benché di fresca istituzione, comunque era il quarto più grande impero coloniale al mondo, naturalmente dopo quello britannico, quello francese e quello olandese, per estensione e anche per numero di abitanti. Beh, le colonie non avevano nessuna valenza per il futuro del popolo tedesco, perché, come aveva dimostrato la guerra, nel momento di una guerra, nel caso di una guerra, le colonie sarebbero state tagliate fuori dalla madrepatria, dal fatto che la flotta britannica sarebbe stata comunque in grado di bloccare i trasporti, e quindi non sarebbe stato possibile utilizzare quel territorio e quello spazio che avevano messo a disposizione, teoricamente, le colonie nel periodo imperiale per costruire lo spazio vitale, il Lebensraum, per il popolo tedesco. Questo può essere costruito soltanto sul continente europeo. Scrive Hitler, e cito brevemente, dalla suscitata edizione critica, la politica estera dello Stato nazional popolare deve garantire l'esistenza su questo pianeta della razza raccolta nello Stato, creando un legame sano, vitale e naturale tra il numero e lo sviluppo del popolo da una parte e la vastità e la ricchezza dall'altro. Interpretando, secondo vecchi cliché, la storia come un ciclo o dei cicli in cui ci sono popoli ascendenti e popoli discendenti, Hitler arriva, in maniera del tutto illogica, ma d'altro canto non poteva essere altrimenti così, a sostenere che in questo momento, siamo appunto nella fase iniziale caotica della Repubblica di Weimar, per il popolo tedesco si pone un dilemma cruciale. O il popolo tedesco capisce qual è il suo destino e affida il suo destino a colui che è in grado di concretizzarlo, cioè capisce che il suo destino è uno spazio vitale sul continente, e allora il popolo tedesco avrà la possibilità di trionfare sugli altri popoli e di realizzare quelle precondizioni di tipo strutturale, di tipo materiale, che gli consentono di mettere in atto, di esplicare la sua superiorità di tipo razziale. Hitler usa una parola molto forte nella lingua tedesca, che è la parola kultur, che naturalmente noi traduciamo come cultura, ma che significa molto di più della cultura nel senso di una componente del pensiero o della giro umano, rappresenta e significa in realtà un'essenza cruciale del popolo tedesco. Oppure il popolo tedesco sarà destinato a crollare, sarà destinato a sparire. E ribadisce ancora una volta in una frase molto importante del Mein Kampf. Perciò noi nazionalsocialisti tiriamo consapevolmente una riga sopra la politica estera del periodo prebellico. Riprendiamo il discorso interrotto sei secoli fa, cioè l'epoca dello spostamento verso est di capisaldi del mondo tedesco, in particolare dell'ordine cavalierisco dei cavalieri che conquistano la Prussia nel primo medioevo. Blocchiamo l'eterna migrazione germanica verso sud e verso ovest e puntiamo a est. Poniamo fine alla politica coloniale e commerciale prebellica e passiamo alla politica territoriale del futuro. Negli anni seguenti Hitler ebbe modo, in varie e svariate occasioni, di articolare ulteriormente questa sua posizione che rimarrà però sostanzialmente immutata, alla quale si aggiunsero all'interno del movimento nazionalsocialista e anche da parte di esponenti della destra conservatrice e nazionalsocialista, che poi è nazionalista, scusate, che poi a partire dagli anni 30 saranno inglobati dentro al ciclone nazionalsocialista vincente, si aggiungono degli ulteriori elementi. Un elemento fondamentale è quello della costruzione di un grande blocco economico, continentale, che troviamo per esempio già nel famoso piano di settembre del cancelliere Beethoven-Holweg del settembre 1914, in cui venivano enucleati i piani, diciamo così, per la vittoria tedesca nel corso, all'inizio della prima guerra mondiale, ma che viene sviluppato ulteriormente soprattutto in corrispondenza, in contrapposizione con il grande blocco economico che è rappresentato dall'Unione Sovietica. Dopo la prima guerra mondiale, infatti, a Est, in quell'Est verso il quale Hitler dice che il popolo tedesco dovrà per forza di cose trovare il suo destino, la sua realizzazione, a Est c'è un grande stato che è doppiamente pericoloso agli occhi di Hitler e dei nazionalsocialisti, perché uno stato comunista è lo stato che esemplifica, che personifica l'ideale del comunismo, sappiamo molto bene che non è così anche dalla lezione della settimana scorsa di Flores, ma è uno stato che, secondo Hitler e i nazionalsocialisti, è governato dai giudei. Quindi usano i nazionalsocialisti questa categoria che era anch'essa radicata nella cultura europea, soprattutto miteleuropea, già dalla fine dell'Ottocento, del giudeo-bolshevismo. Quindi, dentro a questa contrapposizione, si colloca naturalmente la visione di Hitler che qui c'è uno spazio, da un lato pericoloso, ma dall'altro uno spazio particolarmente debole, fragile, perché secondo i pregiudizi ideologici antisemiti, gli ebrei, come scrive lo stesso Hitler, sono in grado di distruggere, ma non sono in grado di costruire. Sono in grado di realizzare obiettivi di breve periodo, ma non sono in grado di costruire qualche cosa che sia saldo come uno stato. Gli ebrei vivono e prosperano negli intestizi tra gli altri stati, ma questo li rende particolarmente pericolosi. Li rende allo stesso tempo deboli nel momento in cui, come in Unione Sovietica, secondo la lettura dei nazionalsocialisti, si è insediato il giudeo-bolshevismo. Quindi un nemico esterno che è rappresentato dagli ebrei e secondo uno dei motivi classici naturalmente dell'antisemitismo tardocentesco-primo-novecentesco, l'ebraismo è una struttura globale, una rete articolata su tutto il globo che si realizza, che si concretizza attraverso due apparentemente opposti elementi che sono da un lato il giudeo-bolshevismo, da l'altro il capitalismo finanziario, Wall Street o la City di Londra, e il capitalismo speculativo, quello che Hitler chiama il raffendest capital, il capitale che prende, che ruba, che strappa via, che non costruise, non lo schaffendest capital, ma il raffendest capital, ma dall'altra anche questa internazionalità e questa pervasività fa sì che gli ebrei in Germania rappresentino un motivo molto forte di pericolo e di indebolimento potenziale del popolo tedesco in questa missione di conquista dell'Ebensrad. Sappiamo che i tentativi del regime nazionalsocialista di definire una politica anti-ebraica saranno tentativi molteplici che inizieranno addirittura nell'aprile del 33, poco più di un mese dopo aver preso il potere, il governo, nella cancelleria di Berlino con un boicottaggio, un tentativo di boicottaggio dei esercizi commerciali. Seguirono nel 1935 le leggi di Norimberga, seguì nel 1938 il momento più visibile, il momento più eclatante, cioè la Notte dei Cristalli con distruzioni, con violenze su tutto il territorio nazionale e a seguire dalla Notte dei Cristalli l'accelerazione del processo di arianizzazione, come si chiamava, cioè di esproprio economico degli ebrei tedeschi e di espulsione degli ebrei tedeschi. Quando dico tedeschi a questo punto siamo già dopo il marzo 1938, intendo naturalmente anche gli ebrei austriaci e poi gli ebrei boemi e moravi, anzi le politiche di arianizzazione e di espulsione ebbero inizio proprio nell'Austria occupata dopo l'Anschluss e ad eseguirle, a metterle in atto, fu Adolf Eichmann mandato a Vienna subito dopo l'Anschluss per risolvere il problema. Questi sono gli ebrei, questi sono i nemici esterni. Non dimentichiamo che tutti, e non vorrei come dire essere frainteso o essere interpretato come un riduzionista, un negazionista per carità, ma non dimentichiamo che dentro a questa queste politiche poi sempre più aspre, sempre più radicali e sempre più criminali che vennero messe in atto nei confronti degli ebrei tedeschi e poi degli ebrei europei, c'erano come dire degli interstizi in cui, come dire, la Germania era una dittatura terribile, era una dittatura criminale, però in Germania in qualche modo vigevano ancora delle leggi, per cui i matrimoni misti reggevano se la moglie o il marito non ebreo non chiedeva l'annullamento del matrimonio e questo fece sì che, come si lamentava incazzandosi, scusate l'espressione, ogni volta Goebbels, che era anche il Gauleiter di Berlino negli anni della guerra, a Berlino vivevano ancora qualche migliaio e anche in alcune altre grande città tedesche, alcune migliaia migliaia di coppie miste e alcune migliaia di questi sono addirittura sopravvissuti alla guerra praticamente all'ombra della cancelleria del Reich o della porta di Brandeburgo. Però non c'è solo questo. La visione che Hitler e i nazionalsocialisti hanno del popolo tedesco che ha il suo destino nella costruzione del grande spazio è una visione che non si limita ad enucleare e a bandire, in modo come abbiamo visto, tragico, terribile, dei nemici esterni, alla Volksgemeinschaft, alla comunità di popolo. È una visione così radicale che si rivolge anche ai membri della comunità di popolo tedesco. Il social darwinismo, in cui Hitler, le SS e pezzi del regime nazionalsocialista credono fortemente, ritiene che ci siano popoli forti e popoli deboli, popoli più adatti e popoli meno adatti, ma allo stesso tempo che dentro a un popolo forte, a un popolo più adatto, ci siano individui più forti e individui meno forti, individui più adatti e individui meno adatti. Quindi parallelamente alle politiche di discriminazione, di segregazione nei confronti degli ebrei tedeschi e poi del Gross Reich e poi via via nei territori occupati, corrono anche delle politiche di selezione all'interno della comunità di popolo stesso. I cui due elementi, momenti più importanti, ben noti insomma, però, che devono essere a mio parere messi dentro a questo contesto, tenuti dentro a questo contesto in maniera molto organica, sono una legge, sottolineo, una legge del 14 luglio 1933, che richiamandosi a una legislazione già esistente ad esempio in alcuni degli Stati Uniti d'America e anche in Scandinavia, prevedeva la sterilizzazione forzata di persone che rientravano dentro un'ampia e per la verità molto vaga lista di malattie ereditarie, dentro alle quali per esempio era messa la Corea di Huntington da una parte e l'alcolismo dall'altro o la prostituzione, la dedizione alla prostituzione dall'altra. E il secondo momento ancora più eclatante, ma non messo in atto attraverso una legge, bensì nel modo più segreto e più nascosto possibile, è la cosiddetta eutanasia. L'operazione T4 che inizia nell'ottobre del 1939, ma l'ordine che Hitler, l'ordine segreto che Hitler dà ad alcuni dei suoi collaboratori nella cancelleria è un ordine che viene retrodatato al primo settembre 1939. Questa è una scelta di cui non conosciamo esattamente i motivi, ma che si può probabilmente molto ben interpretare come una scelta molto chiara. L'inizio della guerra, che è voluta da Hitler e dalla Germania nazionalsocialista, viene considerato una sorta di svolta epocale. All'indietro non si può più tornare, si può solo andare avanti in quella direzione che è stata segnata entrando in guerra e quindi anche andare avanti nell'operazione di eutanasia. Sappiamo che l'eutanasia fu poi bloccata nella sua forma iniziale nell'estate del 1941, soprattutto grazie alla reazione, all'indignazione di esponenti della Chiesa Cattolica in misura più ridotta delle Chiese Protestanti, ma soprattutto del cardinale von Gallen, che emanò una pastorale che fu, nonostante tutti i tentativi di bloccarla, diffusa e letta nell'estate del 1941 in migliaia di Chiese della Germania Cattolica. Non dimentichiamo che i cattolici erano in Germania una minoranza, sì, ma erano comunque circa il 30% della popolazione. Fu poi in realtà l'eutanasia portata avanti anche negli anni seguenti, in realtà fino quasi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con dimensioni più ridotte e comunque messa in atto in forme più coperte e più, come dire, mistificatorie. Complessivamente possiamo parlare di un'eutanasia che abbia riguardato, ovvero ucciso, circa centomila membri della Volksgemangelia, che venivano bollati ufficialmente, esplicitamente. C'era una campagna di propaganda, che fra l'altro si serviva anche del cinematografo, che tentò in vano di far accettare all'opinione pubblica tedesca la validità del punto di vista dell'argomento, che era queste persone sono vite indegne di essere vissute, che danneggiano la sanità del popolo superiore, perché nel momento in cui concepiscono, fanno famiglia, procreano, indeboliscono il nerbo razziale del popolo tedesco e last but not least sono centinaia di migliaia di pazienti, di ospiti, di cliniche, di reclusori, di manicomi, che costano, che costano un mucchio di soldi e che tolgono, c'è una terribile statistica dell'SS che mette a paragone il costo delle rette di queste persone nei manicomi, negli uspizi eccetera eccetera, con il costo del cibo. Le calcola, le trasforma in salsicce e bistecche. Ma questo aspetto non può assolutamente essere slegato dall'altro aspetto più sicuramente noto, per certi versi più macroscopico, però non dimentichiamo, qui stiamo parlando di un popolo che si, di un regime che sostiene di essere rappresentante, di fare gli interessi, il portavoce, di portare avanti e di realizzare il destino del popolo eletto, che decide quali persone non debbano far parte del popolo eletto stesso. In qualche misura ci troviamo di fronte, sebbene sul terreno razziale, non sul terreno politico, a quello che, come ricordava anche Marcello Flores la settimana scorsa, fece il comunismo staliniano, che incominciò ad eliminare i suoi stessi membri, i membri del partito, addirittura gli esponenti del Comitato Centrale, addirittura membri del Politpuro, persone di altissimo livello nelle gerarchie politiche militari dell'Unione Sovietica tra il 1936 e il 1938. Quindi in qualche modo anche quella, c'è una possibilità, una necessità anche di comparare questi due regimi che pur presentano dei punti di partenza completamente diversi, perché tutto possiamo dire del comunismo sovietico staliniano, forché per definirlo su basi di tipo raziale. La guerra, come dire, è l'acceleratore, l'abbiamo visto, è l'acceleratore di tutti questi processi. La guerra accelera il processo di sterminio degli ebrei, vengono, viene bloccata, vengono bloccate le vie dell'emigrazione per gli ebrei tedeschi, un'emigrazione estremamente costosa perché di fatto dovevano lasciare tutti i loro averi per poter avere il permesso per emigrare, però potevano emigrare e circa un terzo della comunità ebraica tedesca riuscì a mettersi in questo modo in salvo, almeno temporaneamente, per chi per esempio si era messo in salvo a Parigi o a Bruxelles cadde poi dopo pochi mesi dello scoppio della guerra di nuovo nelle mani dei suoi carnefici, ma l'accelerazione e la radicalizzazione del processo di sterminio che, come sappiamo, poi ebbe una sua evoluzione molto complessa e molto articolata che adesso non posso seguire. L'accelerazione l'abbiamo vista anche per quanto riguarda le politiche di risanamento, di selezione all'interno della comunità di popolo con la messa in atto di una radicale, di una drastica politica di eutanasia che però a un certo punto dovete fare i conti con una reazione dell'opinione. E la guerra consentiva di mettere, come dire, di realizzare concretamente quella conquista territoriale dell'Eventsraum che abbiamo visto nelle pagine, nelle righe del Mein Kampf che abbiamo letto qui. È ben noto che nell'estate, anzi l'estate-inverno del 1942-43 Stalingrado è il punto massimo di espansione verso Oriente, le armate tedesche e dei loro alleati, non dimentichiamo nemmeno questo, sono su tutto il continente europeo, dal circolo polare artico, dalla Norvegia, al Don, al Volga, alla Caucaso, fino alle coste atlantiche, avendo conquistato naturalmente, come sappiamo, la Francia. E sotto controllo la Francia e alle coste del Mediterraneo. Quindi tutta l'Europa, la gran parte dell'Europa continentale, salvo la Svizzera neutrale, di fatto è nelle mani delle armate tedesche. E qui, come dire, si inizia l'ultima fase, l'ultima pagina sulla quale io voglio soffermare la vostra attenzione, quella di un tentativo di messa in atto di concretizzazione dell'idea dello spazio vitale del Lebensraum. Tenete presente due cose, scusate, tenete presente da un lato che ciò di cui parlerò adesso in quest'ultimissima parte del mio intervento è rimasto in larghissima misura su pezzi di carta, su piani, progetti, disegni, planimetrie, statistiche, memorandum, che hanno circolato nelle sedi burocratiche del Terzo Reich, che sono stati elaborati, anche questo va, credo, sottolineato, dal fiorfiore dei tecnici o dei tecnocrati, non necessariamente nazionalsocialisti, non necessariamente iscritti al partito dal 1922-23, ma molti di loro entrati nel partito o nell'SS a caldo in questi ultimissimi anni, molti di loro non nazionalsocialisti, ma che da tanti punti di vista diversi, dai punti di vista della loro professione, l'economista, lo statista, l'agronomo, lo statistico, l'agronomo, il sociologo, l'etnografo, come dire, si trovano messi nelle condizioni di fare carriera e di lavorare su un, scusate un'espressione forse sballata, su un sincrotrone, su un acceleratore di particelle di dimensioni inconfrontabili con il CERN di Ginevra, una di agire, di modellare il continente conquistato e sottomesso dalle armate tedesche e dei loro alleati. È una hybris che non è la hybris solo di Hitler o di Himmler o di quei ufficiali delle SS vestiti nelle loro impeccabili uniformi nere con gli altissimi stivali perfettamente lucidati che vediamo immancabilmente in tutti i film o telefilm dedicati a questo tema. È una hybris che coinvolge professori universitari, studiosi, ricercatori, filosofi, esponenti politici anche dei vecchi partiti della Repubblica. E questo naturalmente è un elemento importante da tenere in considerazione. Allora, però il primo punto è sulla carta, quindi non è stata realizzata. Quindi di cosa ci vieni a parlare? Ci vieni a parlare di un sogno, di un incubo. Parlo di un sogno e di un incubo, parlo di un incubo, perché questo incubo ha dei contenuti di tipo biopolitico, di tipo di ingegneria sociale che in qualche modo, a parere di alcuno, di alcuni perlomeno, riecheggiano, hanno riecheggiato anche in anni più vicini a noi, magari anche oggi che viviamo in un'epoca di società liquide, in un'epoca delle reti, che non sappiamo bene chi le governa e chi le controlla, possono suscitare preoccupazione o comunque attenzione rispetto a possibili evoluzioni. Questo fa di ciò che dirò adesso, credo, un qualcosa di interessante non tanto in quanto non è stato realizzato, non è stato messo in atto, perché poi la guerra si è sviluppata in un modo completamente diverso, quanto piuttosto di un qualche cosa che comunque è stato concepito e progettato nei suoi minimi particolari. Sto parlando di una serie di progetti e di piani che generalmente, genericamente, vengono richiamati dentro alla categoria di general plan ost, di piano generale dell'est. Va peraltro aggiunto che questo piano generale dell'est non era limitato soltanto all'est, sebbene l'est fosse al centro dell'attenzione dei pianificatori dell'Ebensraum, perché ad esempio c'è tutta una parte di progettazione che riguarda il confine franco-tedesco, quel confine etnico-culturale-linguistico così diciamo ambiguo, così frammentato, per carità, se c'è qualche francese o francofilo tra di voi non inorridisca, ma in Alsazia si beve la birra, voglio dire, e si mangiano krauti e wirstel e questo non è folclorismo, è tradizioni e radici culturali. Quindi in quell'area che sta a cavallo del Reno, che dal punto di vista tedesco è naturalmente estremamente importante, come dal punto di vista francese, che è l'area sulla quale Carlo Magno aveva costruito il cuore dell'impero, del Sacro Romano Impero Germanico e questo era il richiamo di Hitler al piano che era stato interrotto sei secoli prima, quando il Sacro Romano Impero Germanico si era bloccato, si era fermato nella sua espansione, sia verso occidente, ma soprattutto verso oriente. La seconda cosa da dire è che di questo piano generale, addirittura, noi non abbiamo nemmeno un testo che sia credibilmente un testo definitivo. Abbiamo moltissimi, un grande numero di documenti che sono stati messi in luce a partire dai primi anni novanta, perché molti di questi si trovavano anche in archivi dei paesi occupati e finché il comunismo governava per esempio in Polonia era molto difficile accedere, soprattutto per gli studiosi occidentali, accedere a questi archivi e ci troviamo quindi di fronte a una frammentata disponibilità di materiali d'archivio che tuttavia evidenziano con assoluta chiarezza la progettazione di un piano di espansione. Il primo passaggio di questo piano di espansione lo si ha tra l'autunno del 1939, subito dopo l'inizio della guerra e la primavera del 1940 con un piccolo strascico che va anche fino al 1941 e uno dei posti in cui, dei luoghi in cui questa prima parte del piano viene applicata o la si tenta di applicare è la provincia di Bolzano, l'attuale provincia di Bolzano. Quella che noi conosciamo come, quelle che noi conosciamo come opzioni e che naturalmente sono oggetto di attenzione, sono state, sono oggetto di attenzione, di studio, soprattutto da parte di colleghi su Tirolesi o Barra Alto Attesini che si sono occupati poco di questo tema. Sta dentro un progetto più grande che è quello di portare, riportare all'interno dei confini del Reich, siamo nella fase inizialissima della guerra, all'interno dei confini del Reich pezzi di quelle comunità tedescofone tedesche che stavano da secoli, da sei secoli prima alcune di loro, altre da più recente, da tempo più recente, stavano fuori dai confini. È un'operazione che le autorità tedesche, la propaganda tedesca in modo molto altisonante chiamano Heim ins Reich, cioè di nuovo a casa nel Reich. Ed è un'operazione che ha coinvolto più o meno 750-800 mila persone, tedeschi o tedescofoni abitanti in molti paesi, dalla provincia di Bolzano all'Ucraina, alla Russia, ai paesi baltici, alla Romania, all'Ungheria, alla Jugoslavia, con i quali allo scoppio della guerra, Hitler inizia a fare una serie di accordi bilaterali, come quello che fa con Mussolini per il rimpatrio attraverso le opzioni, vengono fatti allo stesso modo con molti altri paesi, per esempio con l'Unione Sovietica, per esempio con la Romania e con l'Ungheria, questi che sono in quel momento paesi alleati o comunque amici della Germania nazionale socialista. L'idea è di riportare a casa pezzi originali del popolo tedesco, del Deutschtum, scusatemi se ogni tanto uso qualche parola tedesca non per piageria ma perché sono parole molto, come dire, pregnanti secondo me, dell'essere tedeschi che sono ritenute dagli ideologi nazionalsocialisti le più pure, le più intatte, le più ingenue da un punto di vista razziale, da un punto di vista culturale, rimando di nuovo alla parola cultura, culture di cui ho fatto cenno prima, perché non avrebbero subito che processi di modernizzazione, di urbanizzazione, di trasformazione capitalistica che aveva invece subito la Germania con tutto il mondo occidentale tra l'Otto e il Novecento. E quindi il rientro di questi tedescofoni che venivano chiamati Volksdeutsche, cioè tedeschi etnici, tedeschi facenti parte del folk tedesco, viene salutato con grande dispiego di energie propagandistiche nella aspettativa che queste persone portino linfa nuova dentro a un popolo tedesco snervato, secondo l'ideologia nazionalsocialista, dal passato repubblicano e dalla modernizzazione che aveva subito la Germania. La delusione è molto forte ed è una delusione che si rispecchia chiaramente nel fatto che nella primavera del 1944 di questi circa 770 mila tedeschi che rientrano tra 39 e 41, circa più di un terzo, quasi la metà, stanno ancora nei campi di transito collocati sui confini prevalentemente orientali del Reich perché non si sa cosa fare di loro. Sono stati interrogati, sono stati valutati, sono stati misurati perché si misuravano i crani, si guardava il colore degli occhi, dei capelli, antropometria, eccetera, eccetera. Sono stati analizzati da tutti i punti di vista dagli esperti nazionalsocialisti, ma in molti di loro non si è trovato affatto il sangue tedesco puro, il popolo tedesco, la purezza del folk tedesco, ma si sono trovati delle popolazioni, uso un'espressione del tempo, bastarde, imbastardite con le popolazioni all'interno alle quali avevano vissuto per secoli, che del nazionalsocialismo naturalmente non si fa più assolutamente nulla, ma che a frotte avevano accettato di andare in Germania. Ma provate a immaginarvi il contadino della Bucovina o della Voligna o il contadino del Baltico a cui si dice scappi dall'Unione Sovietica di Stalin che ti ha appena collettivizzato e te ne vai nel grande Reich tedesco che sta vincendo la guerra, perché in due settimane e mezzo la Germania fa fuori la Polonia e qualche mese dopo, nella primavera del 40, in poco più di un mese fa fuori la Francia. Diverso per esempio il discorso degli altoatesini su tirolesi, per i quali abbandonare quel pezzettino di patria era molto più pesante, molto più difficile di quanto non lo fosse per i tedeschi che vivevano sul Volga o nella Bucovina o in Bessarania. Quindi la realizzazione è molto parziale e la delusione è molto forte. Quindi un primo problema che emerge da subito è dove trovare questi coloni che dovrebbero popolare questo spazio gigantesco, enorme, illimitato e dotato di risorse illimitate a est dei confini del Reich. Questo è un primo grandissimo problema ed è un problema su quale gli esperti nazionalsocialisti si arrovellano per anni senza trovare una soluzione. Alcuni tentativi vengono fatti in varie direzioni. Una di queste, folcloristica, terribile, anche questa spesso oggetto argomento di film hollywoodiani, è l'operazione Lebensborn. C'è l'operazione per la quale bambini piccoli, piccolissimi, neonati polacchi o danesi o francesi vengono tolti alle loro madri e portati, dopo una selezione razziale, il primo luogo delle madri e poi del bambino stesso, della bambina stessa, vengono portati in luoghi per essere cresciuti, allevati, educati nello spirito nazionalsocialista. E che è un'operazione di modeste dimensioni con modesti risultati. Un'operazione molto più grossa in qualche modo avrebbe potuto essere l'operazione di germanizzazione dei popoli che si erano conquistati, ma lì anche qui ci scontriamo con delle contraddizioni enormi. Ma i polacchi, per parlare di un esempio peculiare, sono quel popolo di fannulloni, casinisti, beoni, incapaci che venivano descritti, dipinti dalla propaganda nazionalsocialista? O in fondo, gratta gratta, dentro al polacco, sotto al polacco si trova un po' di sangue tedesco, un po' di valori tedeschi? Perché se l'assunto è che l'Oriente europeo era stato colonizzato, civilizzato dai tedeschi a partire dal Medioevo, beh, questa civilizzazione tedesca qualche segno l'avrà lasciato oltre all'architettura di Danzica e delle città baltiche o a qualche altro aspetto esterile. E quindi il tentativo, che anche questo viene perseguito per esempio in Polonia, facendo una sorta di censimento etnico che porta naturalmente a dei risultati pessimi perché ci si rende conto che gratta gratta, sebbene il censimento venga fatto in tempi molto limitati, perché il tempo è limitato e le risorse sono limitate, gratta gratta si va a trovare che questi sono polacchi e allora eventualmente sì ci vorrebbero l'ultimo fase di rieducazione, di riabilitazione oserei dire in Germania prima di poterli eventualmente utilizzare come colon. E quindi questo è un grandissimo problema, è un grandissimo problema a cui si mescola un altro elemento. Se noi questi territori a est del confine del Reich li vogliamo colonizzare, li dobbiamo liberare della popolazione preesistente, certamente il problema degli ebrei non si pone, vanno cacciati, vanno eliminati. La lösung, la soluzione del problema ebraico, vorrei che fosse chiaro, non è dall'inizio lo sterminio degli ebrei. La soluzione finale dall'inizio è una soluzione territoriale, cioè uno spostamento di queste masse ebraiche via via a est, nella convinzione che dopo aver sconfitto facilmente la Polonia si possa sconfiggere altrettanto facilmente l'Unione Sovietica e quindi avere a disposizione non solo vasti territori da colonizzare, su quali costruire una specie di società ideale germanica, ma avere a disposizione anche vasti territori ancora più in là, da poter destinare alla, anche qui uso un'espressione che usa Hitler, all'immondezzaio etnico, alla discarica etnica, cioè eliminare, spostare tutti gli elementi indesiderati. D'altra parte però, se vogliamo mettere dei coloni tedeschi che stiano bene, che abbiano benessere, che abbiano delle buone condizioni di vita in una Polonia, beh, hanno bisogno di salariati, di lavoranti, di braccianti, e questi lavoranti braccianti, in realtà schiavi nella visione nazionalsocialista, chi potevano essere? Certamente non gli ebrei, dovevano essere i polacchi. Allora anche qui la contraddizione, i polacchi sono germanizzabili? Forse sì, forse no, i polacchi sono da espellere? Sicuramente sì, però un po' di polacchi li dobbiamo tenere perché abbiamo bisogno di mano d'opera gratis e sottomessa pienamente. Allora, tutte queste contraddizioni, oltre naturalmente alla contraddizione fondamentale rappresentata dal fatto che a partire dall'inizio dei primi mesi del 43, la Wehrmacht inizia pian pianino ad arretrare. Quindi questo vastissimo cuscinetto territoriale che si era conquistato nei primi tre anni di guerra improvvisamente, sebbene lentamente inizia a contrarsi, tutte queste contraddizioni fanno sì che il piano generale oriente rimanga pezzi di carta. Ciò nonostante stiamo parlando di un progetto di ingegneria sociale di dimensioni inenarrabili, forse solo nell'Unione Sovietica o nella Cina maoista sono state superate dimensioni progettuali di questo tipo. A un certo punto si parla nell'ultimo piano, quello più ambizioso che prevedeva anche la germanizzazione di pezzi dell'Unione Sovietica e della Russia europea, si parla di colonizzare 700.000 km2 di territorio, ovvero un territorio quasi doppio delle dimensioni del Reich, e di portare dentro a quel territorio da germanizzare dagli 8 ai 12, Himmler dice 15, milioni di coloni, dopo averlo svuotato della loro popolazione o di larghissima parte della loro popolazione preesistente ebrei in primo luogo. Quindi è un progetto di ingegneria sociale che si basa su un assunto di tipo biopolitico, la politica come realizzazione di un progetto biologico che risponde a criteri biologici, diremmo razzisti, ma per essere più neutri e forse più alla page, diremmo biopolitici. Questo non è qualche cosa che sta semplicemente nelle scartoffie ingiallite e impolverate degli archivi da cui finora sono emersi forse nemmeno tutti gli aspetti di questo progetto, ma io credo che sia una visione, un incubo, che forse dovrebbe anche suscitare attenzione e riflessione nel giorno d'oggi, al giorno d'oggi. Grazie della vostra attenzione. Grazie Gustavo. Adesso noi abbiamo anche un po' di tempo per il dibattito. Chi vuole porre delle domande le dovrebbe porre in chat e io poi le rilancio a Gustavo Corni che ha fatto un bellissimo intervento, soprattutto su questa questione dell'architettura, della ridisegnazione dello spazio europeo, dell'Ebbensraum, eccetera. In attesa che arrivi qualche domanda, una gliela vorrei fare io. Ed è una cosa che mi ha molto colpito, leggendo più di recente che in passato, il ritardo con cui la comunità degli storici affronta la questione dello sterminio degli ebrei. Oggi con questa enorme letteratura a disposizione di tutti, addirittura escono il più bel libro sullo sterminio con i caratteri dorati nel titolo che mi sembrano delle fesserie, eccetera. Negli anni Ottanta inizia questa scoperta, ma è una scoperta molto tardiva. In un libro, Ian Kershaw l'ha data a un convegno che viene fatto nell'82 a Parigi, i cui atti vengono poi curati e pubblicati, da François Fouret. Come mai questo ritardo? Tu che sei un esperto del nazismo e anche della storiografia ovviamente sul nazismo. Naturalmente la domanda è molto grossa. Cercherò di dare un flash anche perché vorrei lasciare spazio a più domande possibili, insomma più interventi possibili. Io credo che uno dei motivi fondamentali sia rappresentato dal fatto che per lungo tempo gli stessi ebrei non parlano, cioè nel mondo ebraico internazionale dopo il 1945 altre sono le priorità, costruire uno stato in Israele, andare a colonizzare, difenderlo contro i nemici o vicini arabi, come dire si voglia. Far dimenticare per se stessi e far dimenticare agli altri di essere sopravvissuti quando la gran parte dei membri della propria famiglia sono morti. Temere che qualcuno ti venga a dire ma tu come hai fatto a sopravvivere? E reagire, reagire, trovare dentro alla cultura ebraica che non ha quel DNA nella sua storia lunghissima, trovare i modi di reagire e trasformare le pecore al macello, come veniva chiamata molto frequentemente la passività con cui queste masse di ebrei, di miseri ebrei accettavano il loro destino, che lo conoscessero o meno, più o meno esattamente. Poi nella parte per quanto riguarda il mondo occidentale, certamente in Germania e il periodo di Adenauer, che è un periodo molto lungo, fino ai primi anni 60, anche qui le priorità sono altre ed è molto difficile far passare nell'opinione pubblica tedesca l'idea che il tuo vicino di casa sia stato una guardia in un campo di sterminio o abbia fucilato a biliar a mitraglia gli ebrei dentro a qualche fossa comune, c'è quel bellissimo film di qualche anno fa su Fritz Bauer, sul giudice istruttore di Francoforte, ebreo tedesco, che resta, continua a fare il suo mestiere e che istruisce il processo, il primo grande processo del 62-63 contro un gruppo di guardie, di carnefici di Auschwitz, il muro di gomma, gomma, non di ferro, il muro di gomma contro il quale Fritz Bauer va a sbattere le enormi difficoltà che gli ha per far accettare che si torni ad affrontare questo problema. Quindi molteplici sono gli elementi e da parte degli alleati occidentali, sappiamo molto bene che nel processo di Nuremberg lo sterminio degli ebrei è marginale, non è tra i capi di imputazione, sì una parte significativa della documentazione che viene raccolta riguarda il problema degli ebrei, anche nel processo Eichmann e nei processi successivi verranno più e più volte ripresi documenti che erano stati raccolti in occasione del processo di Nuremberg, ma nessuno in quel momento vuole o se la sente di sollevare il problema, anche perché se vogliamo restare al contesto internazionale scoppia la guerra fredda e le priorità a questo punto diventano diventano altre. Certo, certo, oltretutto c'è un silenzio clamoroso in Unione Sovietica per tutta la sua esistenza. C'è una domanda che viene da Mario, non so il scognome perché non si vede qui, dice ho sentito che era prevista anche la colonizzazione degli Stati Uniti, può dirci qualcosa? Allora ad essere onesto, Ernesto Enrico Maria Massucci che anche l'altra volta ha posto la prima domanda, è appena sopra Mario. Allora è giusto che io rispondo a Enrico Maria Massucci che pone un'altra questione di quelle hard. La centralità sognata alla questione dello spazio nel progetto rimanda all'Ottocento di Haushofer, Karl Haushofer, geografo, e passando per Beethoven-Holweg, evoca una sinistra continuità della vicenda tedesca, punto di domanda. Anche questo è un problema enorme, Massucci ben lo sa, è un problema enorme su cui la stereografia continua a dibattere sul filo tenue e instabile della prevalenza della continuità e della discontinuità. Pur ammettendo, io, per quanto io ne sappia e abbia letto su questi argomenti, pur ammettendo che ci siano degli elementi importanti di continuità, tuttavia io so, per esempio, lo sfruttamento della mano d'opera nell'Europa orientale da parte delle autorità militari tedesche durante la prima guerra mondiale, presenta degli aspetti che rassomigliano un po' abbastanza alle politiche di sfruttamento della mano d'opera schiavizzata di quegli stessi territori orientali dopo il 1939, soprattutto dopo il 1941 in Unione Sovietica. Io continuo a propendere pur sul filo, che ammetto è un filo tenue, per la discontinuità, a mio parere. Mario, sinceramente, onestamente, signor Mario, non lo so, non ne ho mai letto, però quando parliamo di nazionalsocialismo, vede che io dico nazionalsocialismo, non dico nazismo, ci troviamo su un terreno minato, su un terreno minato da tante generalizzazioni, tante falsità, tantissime falsità, molta superficialità e io non lo dico perché io magari queste cose le ho studiate più di molti altri o insieme ad altri più di molti altri, ma in realtà è un problema così complicato, la risposta che ho appena tentato di dare prima a Massucci lo attesta, che non si può negare che ci possa essere spazio per ogni sorta di generalizzazione. Quando mi arrivava qualche studente che mi diceva, professore io vorrei fare una tesina su Hitler e Rosa Croce, su Hitler e la massoneria, mi tremavano le gambe, mi si rizzavano i peli sulle braccia e gli dicevo, si vada a leggere questo e questo e questo e vedrà che non c'è niente. Io non so di una colonizzazione degli Stati Uniti, può essere che qualcuno ne abbia scritto. Hitler da ragazzo era un grande ammiratore di un grande scrittore di romanzi per ragazzi che si chiamava Karl May, con la Y finale, che è il Salgari tedesco, probabilmente anche molto molto più conosciuto e che ha fatto molti più soldi di Salgari, o Salgari, io lo chiamavo Salgari, nei miei tempi che i soldi non ne ha fatto manco uno e tanti di questi romanzi sono ambientati nel mondo del West, come è ovvio per i romanzi d'avventura dell'Otto-Novecento. Io sinceramente non ne so nulla. So che c'è un progetto che viene però abbandonato praticamente all'inizio della guerra di costruire una grande flotta oceanica con portaerei, corazzate, eccetera, eccetera, il famoso piano Z che viene elaborato e poi nello stesso tempo dimenticato, messo in disparte, perché ci si rende immediatamente conto che non è realizzabile. Allora la premessa hitleriana del Mein Kampf che sta in piedi un territorio soltanto se quel territorio è territorialmente compatto è una premessa che vale anche per il discorso degli Stati Uniti. Penso che Hitler non si sia mai, benché disprezzasse gli americani e fosse convinto fino quasi all'ultimo che non fossero capaci di combattere. Magari era vero, ma erano strumenti e le armi e i soldi per combattere molto bene e non credo che Hitler ci abbia pensato seriamente. C'è un iPhone che chiede quale responsabilità attribuisce i capi ebraici riguardo allo sterminio, è un iPhone evoluto indubbiamente, e poi c'è Andrea Bontempo che chiede a 25 anni dalla pubblicazione del saggio sui volanterosi carnefici di Hitler quali sono le tesi principali nel dibattito storiografico attuale in merito al ruolo che ebbero i civili tedeschi, i tedeschi comuni nel genocidio del popolo ebraico. Domande semplici. Siamo sempre nella serie delle domande semplici, però uno poteva anche dirmi, beh, allora non fare la relazione se sai che ti verranno fatte delle domande difficili. Io molto volentieri cerco di affrontare anche le domande difficili. Per quanto riguarda il problema dei capi dei consigli ebraici, i cosiddetti consigli ebraici, gli juden rete nei ghetti dell'Europa orientale, in particolare della Polonia, dopo l'autunno 1939, anzi i primi ghetti vengono creati nell'inverno 1939-40, è notoriamente una delle tesi forti, molto discusse del grande libro di Hannah Arendt, scritto a commento e a resoconto del processo Eichmann, che in realtà è molto molto di più di un resoconto del processo, la banalità del male, così si intitola il libro di Hannah Arendt, che viene poi in parte ripreso anche da Primo Levi. Primo Levi, insommersi e salvati, fa un durissimo attacco contro quella che lui chiama la zona grigia, in cui mette anche gli ebrei. E quindi c'è un pezzo, parti soprattutto della classe dirigente ebraica. La risposta è molto difficile. Io penso che, su questo tema ho scritto un libro un po' di anni fa, se siete interessati, si intitola I Ghetti di Hitler, è stato pubblicato dal Mulino nel 2001. C'è uno di questi capi ebraici, del Consiglio ebraico, che dice, che scrive a un certo punto, io mi sento come se fossi dentro a una gabbia con una tigre famelica. Le debbo dare alla tigre un po' di carne da mangiare, sperando che si sazi. Queste sono le citazioni, naturalmente non a memoria, non perfetta. Quindi, chi sapeva, tra i capi ebraici, e non tutti sapevano dove andavano i treni, chi sapeva o aveva plausibili idee di dove andassero quei treni, è stato mosso sicuramente dal tentativo di salvare una parte. E il caso più eclatante della popolazione che gli era stata affidata, non erano stati eletti, erano i tedeschi che li avevano nominati. Il caso più eclatante è quello del ghetto di Ucci, Lotz, che resiste fino all'agosto del 44. Nell'agosto del 44 viene sgomberato definitivamente, in quel ghetto ci sono ancora 60.000 ebrei. È la più grande comunità ebraica ancora rimasta sul continente europeo. Rumkowski, il capo del Consiglio ebraico, è riuscito, in qualche modo, non lui solo, ma ha comunque contribuito a tenere in vita per quattro anni, per più di quattro anni, 60.000 ebrei. Vengono caricati sui treni, vengono portati a Auschwitz, Rumkowski chiede e ottiene di essere portato tra i primi nel campo alla morte, al gas. Per quanto riguarda la domanda sui carnefici di Hitler, il libro di Goldhagen suscitò una feroce reazione da parte dell'astrolografia internazionale, in particolare da parte dell'astrolografia tedesca, anche perché Goldhagen non era uno studioso dello sterminio, fino a quel momento, ed era uno che a un certo punto si è affrontato questo tema, certo in modo molto schematico, molto transciante, molto netto, senza grandi perifrasi e senza grandi chiaroscuri, ma la sua interpretazione era che tutto il popolo tedesco fosse animato da un antisemitismo, come lui lo chiama, sterminazionistico, cioè che implicava perlomeno in ultima istanza la possibilità che il problema ebraico potesse essere risolto attraverso lo sterminio degli ebrei. È un libro che è stato abbandonato e dimenticato. L'astrolografia sullo sterminio degli ebrei oggi è incontrollabile, nessuno al mondo si può sognare di leggerli tutti, ma nemmeno di leggere i più importanti, ve lo posso assolutamente garantire, e sfugge da tutte le parti, perché quanto più si fanno studi empirici, dettagliati, approfonditi, localizzati, tanto più scappa, come dire, il magma, la materia dell'idea della politica, del progetto di sterminio applicato con piani, con tappe e secondo la volontà di Hitler da un determinato specifico delimitato gruppo di esponenti del regime nazionalsocialista sfugge da tutte le parti. Quindi io le do una risposta molto interlocutoria e molto superficiale. È un tema davvero straordinariamente complesso. E mi scusi di questa. Gustavo, c'è una richiesta da Sergio Carletto che ti chiede quale sia la monografia dedicata al concetto di Lebensraum più aggiornata e qual è un testo sintetico sull'ideologia nazista che possa essere proposto agli studenti. Allora, io non sono mai bravo per i titoli. Sull'ideologia nazista è uscito un paio di anni fa un libro di un autore francese che si chiama Johan Chaputaut, scritto Chaputaut, T-O-U-T, credo pubblicato da La Terza, perché i suoi primi libri sono stati pubblicati dalla Terza, che adesso ultimissimamente ha pubblicato con Inaudi un libretto intitolato Nazionalsocialismo e Management. Quel libro lì, il cui titolo onestamente non ricordo, è un libro molto interessante su alcune categorie, forse qualcuno dei tanti, vi ringrazio di essere così numerosi, dei tanti uditori, come dire, riesce magari online a cercarlo e a chattarlo, farebbe una grande cortesia a me e a tutti. È un libro molto interessante e molto aggiornato sull'ideologia nazista. Proporlo agli studenti, se lei sta parlando degli studenti delle superiori, ho i miei dubbi, perché è un testo complesso, studenti universitari sicuramente sì. Per quanto riguarda il concetto di Lebensraum, a mia conoscenza non ci sono monografie in italiano, perlomeno recenti, che lo trattino. C'è un bel capitolo di un libro di uno storico americano che si chiama Smith, ma di un po' di anni fa, non tradotto in italiano. Mi permetterei, senza voler sembrare offensivo, di consigliare al signor Carletto di andare a vedere questo mio libro, Il sogno del grande spazio, che è uscito dalla terza nel 2005, in cui affronto in termini anche molto sintetici, però un po' l'intera problematica che ho proposto anche in questa conferenza. Luisa Armellini, che chiede, tu hai visto in maggio una domanda, ogni volta che sento parlare di Hitler, che capacità aveva per progettare questo, ma soprattutto per farsi seguire dal popolo tedesco, insomma, dei tedeschi. Anche la signora Armellini non vuole smentire la linea delle domande facili, semplici, easy, easy questions, ma anche qui tenterò di dare un po' e un minimo di risposta. Ho ricordato all'inizio che una delle linee interpretative più importanti degli ultimi 30 anni, insomma, dell'interpretazione dell'anzionalsocialismo ha abbandonato la vecchia, ormai superata, visione Hitler-centrica, centrata su Hitler e sulle sue volontà per invece andare alla ricerca a affrontare il tema da un punto di vista di quella che veniva chiamata la policrazia. C'è un... ci troviamo di fronte a un regime policratico estremamente articolato e complesso. Il grande biografo di Hitler, Ian Kershaw, l'inglese Ian Kershaw, che ha scritto due bellissimi volumi pubblicati da Montpiani tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo, la più, secondo me, più bella biografia di Hitler in assoluto, di Gran Lunga in assoluto, ha coniato un nuovo tentativo di interpretazione, lo dico in italiano. Lavorare verso il Führer è la traduzione italiana dell'espressione che Kershaw usa nell'originale inglese, con la quale egli intende l'inclinazione di molti in questo variegato e articolato panorama della policrazia nazionalsocialista, dove tutti tiravano un po' all'acqua al proprio mulino, tanto per capirci, che comunque l'elemento unificante fosse il dittatore, verso il quale c'era questa inclinazione a precorrere le sue intenzioni. Noi sappiamo che molti degli ordini di Hitler, la gran parte delle cose che vengono fatte nel Terzo Reich, non hanno una base scritta, men che meno hanno una base legislativa, ma sono basati ipoteticamente a quello che noi sappiamo su protocolli che venivano tenuti da poveri Cristi, e adesso spiego perché poveri Cristi, i quali stavano lì, seduti in un angolo quando Hitler parlava nei suoi soliloqui che duravano fino alle 3-4 di notte, per questo ho detto poveri Cristi, perché penso che non potessero osare di addormentarsi senza prendere nota di tutto, e questi protocolli, soprattutto negli anni di guerra, sono una delle pochissime documentazioni, se vogliamo di prima mano, anche se in diretta, della volontà di Hitler. Che poi questa volontà precorsa in parte dai funzionari e dai membri del regime, abbia anche coinvolto larghi settori dell'opinione pubblica, beh, qui giocano anche altri fattori, una fascinazione che il Führer suscitava come persona, come individuo, come capo politico, come guida, una fascinazione costruita attraverso uno raffinato sistema di propaganda costruito da Josef Goebbels e di cui la grande regista Leni Riefenstahl è una, una delle tante macchinette, delle tante rotelline che fanno funzionare questa macchina di seduzione di massa. Ma ci sono anche altri fattori, ci sono anche dei fattori di natura materiale, di interesse. Quando viene messa in atto la rianizzazione della comunità ebraica di Vienna, che era una delle più grosse d'Europa, 150 o 180 mila ebrei, per lo più, in buona misura, ricchi e benestanti, questo significa che entrano sul mercato immobiliare 150 mila appartamenti, 180 mila appartamenti, case, negozi, stabilimenti, fabbriche, depositi, eccetera, 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 perché questi poveri cristi di ebrei viennesi, seguiti a caduta da tutti gli ebrei di tutto il Reich, dove la rianizzazione verrà di lì a poco applicata, diciamo, in modo più ampio, sono costretti a vendere a prezzi imposti dalle autorità nazionalsocialiste, per cui, se qualcuno si metteva in fila o aveva gli agganci giusti, si portava a casa un bellissimo appartamento o un negozio o un esercizio commerciale nel centro di Vienna o nel centro di Berlino o di Francoforte con quattro soldi. E anche questo è un elemento da non tenere in secondo piano. E infine, vorrei ricordare, e è molto legato al tema della mia conversazione di oggi, che nel momento in cui i tedeschi conquistano praticamente tutta l'Europa, sono i signori in tutta Europa. Se voi vi andate a leggere da un lato, cercandole, trovandole, ce ne sono, non sono tante, ma le narrazioni, le memorie, gli epistolari dall'est, i soldati ufficiali, oppure dall'altro, gli epistolari di soldati ufficiali dalla Francia o dall'Italia dopo l'otto settembre 43. Le immagini sono molto diverse, no? In Francia, champagne, belle donne, Parigi, teatri, cinema, bella vita, la città vissuta di notte, l'Italia meravigliosa, stupenda, il vino, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra, nell'est, champagne, niente, eventualmente, vodka a fiumi, ma poter disporre di quel materiale umano, uomini, donne, o bambini, o quello che fosse a proprio assoluto piacimento per farne ciò che se ne voleva. E questo avviene anche dentro il Reich, dove ci sono 4 milioni e mezzo di lavoratori stranieri, in parte prigionieri di guerra, in parte i nostri IMI, i nostri internati militari, che qualunque operaio o operaia tedesca di ultimo, di infimo rango, si può permettere di trattare come bestie facendo il capoccia, perché quelli sono infiniti gradi al di sotto di lui, anche se lui o lei è l'ultima ruota del carro nella fabbrica, nello stabilimento, nel negozio. E anche questi elementi di apparente ascesa sociale, di apparente appagamento sociale, sono degli elementi che credo abbiano un peso nella estremamente difficile diciamo tentativo di andare a misurare ecco Shaputò la rivoluzione culturale nazista, grazie Bari la terza 2019 si scrive Shaputot avevo persino detto male il il cognome prego c'è un'altra domanda di Aldo Gottardi se si può considerare la politica antisemita nazionalsocialista come il punto di arrivo di una più ampia tradizione proveniente dal medioevo centro europeo oppure è una lettura troppo semplicistica sì certamente gli storici per mestiere vanno alla ricerca delle radici no il mestiere dello storico è quello di ripercorrere all'indietro una vicenda storica un tema una questione e cercare radici e cercare agganci e non c'è alcun dubbio che la che ci sia una salda radicata tradizione anti-giudaica che ha però caratteristiche e fondamenti completamente diversi di natura eventualmente religiosa o di tipo economico rispetto all'antisemitismo razziale e politico del tardo ottocento del primo novecento quindi ci sono sicuramente delle radici ci sono però anche delle fratture ci sono anche delle fratture molto importanti tra il sette e l'ottocento impero zarista a parte e il comunità ebraiche in tutto il mondo occidentale si emancipano vengono emancipate grazie alle leggi emanate dalle monarchie o dalle poche repubbliche liberal-democratiche sette ottocentesche grazie anche soprattutto all'influsso importantissimo dell'illuminismo delle correnti culturali post-rivoluzione francese e quindi l'emancipazione cambia completamente il ruolo degli ebrei in Europa ripeto ad eccezione dell'impero zarista dove il loro ruolo non cambia di granché rispetto ai secoli passati ci sono molte molte rotture quindi tirare una linea diritta in storia è impossibile in generale è comunque abbastanza semplicistico per riprendere l'espressione del signor Gottardi ma ci sono anche indubbiamente delle radici ai primi del ai primi del novecento quando c'è un'ondata di pogrom di violenze durissime soprattutto nell'impero zarista che provocano una fuga in massa di milioni di ebrei orientali che vanno in gran parte a popolare New York o almeno molti quartieri di New York o delle grandi città degli Stati Uniti o anche dell'America Latina c'erano degli studiosi che si occupavano dell'argomento consapevoli del fatto che fosse una cosa veramente molto importante e si chiedevano ma dove linea astratta ma dove potrà mai essere eventualmente una politica violenta dura di eliminazione fisica degli ebrei dove è più probabile che rompa questo vulcano così che sta sotto sottotraccia e secondo molti era la Francia il paese dove avrebbe potuto la culla dell'illuminismo la culla della Repubblica la culla della Rivoluzione Francese dove avrebbe più facilmente più plausibilmente potuto rompere questo vulcano che che bolliva sotto sotto la crosta terrestre e non la Germania invece avviene avviene in Germania per tutta una serie di altri elementi di altre rotture che ci sono nella storia successiva in particolare la Prima Guerra Mundiale la sconfitta militare la Repubblica malaccetta e debole anche per certi versi Gustavo l'ultima domanda visto l'ora che che si è fatta sono le 19 e 15 c'è Francesca che chiede si può affermare che il popolo tedesco abbia scambiato barattato il proprio benessere con lo sterminio del popolo ebraico e i tedeschi secondo te sapevano quanto stava accadendo? Allora la prima la prima parte della domanda non me la sono mai posta in questi termini quindi devo rifletterci un istante per darle una risposta rispondo prima alla seconda parte nel novembre del 1938 c'è la notte dei cristalli l'ho solo accennata all'inizio questa notte violenta un pogrom alla russa all'azzarista un'erunzione di quel magma di cui dicevamo prima decine di migliaia di ebrei vengono buttati per strada malmenati migliaia migliaia di vetrine rotte sinagoge bruciate negozi bruciati gente che che ruba che porta via la roba 10-11 mila ebrei vengono presi rastrellati e portati nei campi di concentramento che già esistevano da un pezzo poi li rilasciano dopo un po' perché non si sa con che con che scusa tenerli in campo di concentramento perché è ancora uno stato di diritto ci sono agli occhi dei rapporti della polizia segreta tedesca che segue come in Italia il fascismo la polizia fascista che segue con grande attenzione ciò che avviene diciamo così le fibrillazioni dell'umore della popolazione le reazioni prevalenti nella popolazione tedesca alla Notte dei Cristalli non sono tanto di adesione e di approvazione verso queste violenze quanto sono invece di rigetto di queste violenze queste violenze vengono prevalentemente considerate qualcosa di negativo di distruttivo che dà fastidio che crea disordine e nel disordine non si sta bene nel disordine gli affari non si fanno il tedesco ama l'ordine e quindi la violenza il disordine le vetrine rotte a chiunque le si rompa gli incendi i furti i saccheggi a chiunque venga derubato e saccheggiato non vanno bene ma ciò che però quindi non c'è un'approvazione in senso forte almeno stando ripeto uno dei pochi strumenti che abbiamo per capire il polso dell'opinione pubblica e che il regime aveva per capire il polso dell'opinione pubblica c'è i rapporti della polizia e degli informatori che stanno in mezzo alla gente ma quello che le relazioni degli informatori anche dicono è ancora più interessante secondo me cioè dicono che un risultato paradossalmente la nota dei cristalli lo ha ottenuto e non è quello di avere messo in primo piano la questione ebraica sbattuto il mostro in prima pagina come volevano i hardliners i duri delle SA che sono guidati da Goebbels che sono incitati da Goebbels che sono quelli che fanno la mettoninato la notte dei cristalli con l'approvazione di Hitler ma non mossi da Hitler con l'approvazione nulla di così grave può succedere senza l'approvazione ma Hitler non è il l'artefice della notte dei cristalli l'effetto ottenuto non è sbattere il mostro in prima pagina ma l'effetto che si ottiene nel medio periodo è quello di allontanare il problema ebraico di neutralizzare il problema ebraico la presenza ebraica di nasconderla e questo è ciò che che consentirà poi al regime di fare e disfare a proprio piacimento salvo questi rari casi di famiglie miste e di coraggiosi mogli coraggiose mogli della Rosenstrasse come si chiamava dove era la sede della Gestapo di Berlino che vanno a protestare davanti alla Gestapo che ha preso alcune centinaia di mariti e loro li rivolgono indietro perché le leggi di Norimberg e le successive leggi consentono a una coppia mista di restare nella propria casa seppur discriminata e non consentono una deportazione priva di una giustificazione giuridica per quanto quindi fuori dagli occhi lontano dagli occhi lontano dal cuore tornando al primo punto io non non direi così lo sterminio del popolo ebraico è un qualche cosa che avviene certo in un contesto in cui il popolo tedesco fino al 43 all'inizio del 43 quando Hitler è costretto ad ammettere a denti stretti che la vittoria non è dietro l'angolo perché c'è stato Stalingrado e l'apparato propagandistico di Goebbels si inizia a costruire il battaggio sulla guerra totale e sui sacrifici che si dovranno fare per vincerla perché la si vincerà ma bisogna fare sacrifici beh i tedeschi fino a quel momento sono stanno molto molto meglio almeno soggettivamente rispetto a quanto non stessero negli anni della Repubblica e soprattutto alla luce di quello che era accaduto nel 19 con la sconfitta e il trattato di Versailles e quindi sono sostanzialmente piuttosto appagati e dello sterminio del popolo ebraico sono sostanzialmente disinteressati li vedono come dicevo appena poco fa sparire dall'orizzonte dall'oggi al domani non lo vedo più per strada non apre più il suo negozio non va più in ufficio ma è una scomparsa come dire molto sgranata molto quotidiana che avviene tra virgolette in punta di piedi non che gli ebrei si allontanino in punta di piedi ma vengono allontanati in qualche modo in punta di piedi dalle autorità sono molto attente a per esempio a dislocare i campi di sterminio fuori dai confini dei Reich vicini abbastanza soprattutto alle linee ferroviarie ma fuori dai confini dei Reich non sarebbe stato più comodo costruire un bel campo di sterminio a qualche decina di chilometri su una qualche linea ferroviaria che si diramava da Berlino a una distanza adeguata da ridurre gli odori terrificanti che ne scaturivano sarebbe stato logisticamente molto più semplice piuttosto che spostarli prima in un ghetto polacco poi dal ghetto polacco portarli a Treblinka o portarli ad Auschwitz ancora più in là con costi con tempi con le linee ferroviarie che dovevano essere riservate all'attacco contro l'Unione Sovietica credo di dovermi fermare perché perché mi ho preso molto tempo e mi scuso per eventualmente per averlo fatto ma questi temi sono estremamente complessi e allo stesso tempo anche purtroppo sono estremamente intriganti io ringrazio io ringrazio Gustavo Corni ringrazio anche tutte le persone che sono rimaste fino ad adesso un attimo fa erano una sessantina e per gli orari trentini è una prova dello spirito vi ricordo solo che mercoledì prossimo il 12 maggio ci sarà il professor Guido Formigoni che insegna allo Yulm di Milano e che farà un intervento sul cattolicesimo politico grazie a tutti buona serata solo un saluto un ringraziamento a tutti quanti anche stasera non sono mancati gli stimoli e un'ora e mezza è volata anche di più grazie al professor Corni e grazie a tutti l'appuntamento per la prossima settimana